Senza ulteriori indugi lascio subito la parola prima al professor Giuseppe Mazziotti e poi all'avvocato Deborah De Angelis che ci parlano delle organizzazioni di gestione collettiva in relazione a Creative Commons, quindi un tema che abbiamo già accennato prima ma che abbiamo appunto rimandato a questo panel. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Permettetemi di ringraziare gli organizzatori di questa conferenza, il Nexa Center, i professori Ricolfi, De Martin, Federico e tutta la comunità di Nexa a cui sono particolarmente legato e affezionato per averci collaborato e per collaborarci ancora. Premetto che il mio intervento sarà introduttivo dell'intervento specifico per e proprio di Deborah De Angelis che si occuperà dei rapporti che sono in corso tra Creative Commons e SIAE. Io vorrei semplicemente aiutarvi a capire che cosa sta succedendo nel mondo delle cosiddette Collecting Societies, società di gestione collettiva dei diritti d'autore in Europa perché dopo molti anni di silenzio le istituzioni europee, soprattutto la Commissione europea a partire dal 2005 ha cominciato a prendere in considerazione l'operato di queste licenze perché si è accorta che in qualche modo il Manu... Cosa si è fatto? Ci sono state otto riunioni in sei mesi e le problematiche che hanno assorbito il maggior impegno sono proprio state queste. Innanzitutto definire una linea di demarcazione tra quelle che sono le utilizzazioni commerciali e quelle non. Inoltre far passare il principio di una giustione nel mandato opera per opera e quindi non più una gestione legata al nominativo dell'autore che la SIAE ha sempre giustificato per la possibilità di omonimia nei titoli delle opere che però in qualche modo abbiamo superato restringendo l'applicazione del mandato alle sole opere rilasciate con licenza Creative Commons con attributo non commerciale. Allora, definire cosa sia commerciale e non commerciale. La prima soluzione che abbiamo adottato non definiamolo, cioè non diamo una definizione specifica anche perché con l'evoluzione saranno diverse le forme di utilizzazioni che verranno e quindi dovremo cercare di mantenere un criterio allargato. Allora abbiamo ragionato sulla possibilità di utilizzare dei criteri. Il primo, quello prevalente di tipo soggettivo, cioè di fronte a un soggetto a carattere imprenditoriale l'utilizzazione sarà sicuramente commerciale. Questo è un criterio che comunque alla SIAE è molto caro, anche se a noi ha creato dei problemi in alcuni casi, come vedremo. In via subordinata, quindi in assenza di un carattere imprenditoriale dell'utilizzatore, vi è l'applicazione di un criterio ausiliario di tipo soggettivo, ossia che ha riguardo all'attività effettivamente posta in essere. Quindi la valutazione della commercialità dell'opera in base ad un parametro economico da introdurre, ossia se l'incasso supera un determinato tetto è sicuramente commerciale, se l'incasso in presenza di un'attività di sfruttamento di opere è inferiore a questo parametro, possiamo rientrare nel non commerciale. Pertanto si sono delineate tre tipologie di utilizzazioni, quelle operate da soggetti imprenditoriali, quelle operate da soggetti non imprenditoriali e non prevalentemente intesi o dirette al conseguimento di un vantaggio economico privato, e quindi non commerciali, e poi le cosiddette zone grigie, ossia quelle forme di utilizzazioni, ove pur in presenza di uno scambio economico, l'entità è minima, e quindi abbiamo cercato di farle rientrare nel non commerciale, proprio per riuscire in qualche modo a supportare il discorso della comunicazione e della promozione che le licenze Creative Commons vogliono dare agli autori che le hanno prescelte. E quindi in quest'ultimo caso si applicherebbe il criterio ausiliario del parametro economico. Quindi io faccio degli esempi di utilizzazioni commerciali e non commerciali, vado avanti se no non riesco a finire, a che punto siamo? Cioè quali sono stati gli esiti dello studio avviato nel dicembre del 2008 dal gruppo di lavoro? Allora, dei dati. L'ultima riunione è stata fatta qui a Torino nel luglio scorso, dove ci siamo incontrati e abbiamo fatto un'analisi di quello che era il prospetto di contratto di mandato presentato dalla CIAE e Creative Commons Italia ha cercato in qualche modo di considerare delle opportune modifiche e di consigliarle in qualche modo alla CIAE cercando di ottenere una forma di mandato concordato in qualche modo. Attualmente, cioè da luglio, non abbiamo più avuto dei grossi passi avanti, in quanto il progetto di mandato è sottoposto al controllo tecnico della sezione musica, che lo sta valutando con notevole ritardo. Da un punto di vista anche politico, in quanto c'è stato un arresto dei lavori dovuto alle nuove cariche, alte cariche della società. C'è stata di nuovo l'elezione del presidente, del direttore generale, quindi hanno pensato ad altro. Ma contestualmente è anche avvenuta un'altra cosa, cioè contestualmente nel mercato italiano della musica in store, e quindi delle pubbliche esecuzioni nelle grosse catene commerciali, si è avuto l'introduzione nel mercato anche di nuovi content provider, content provider esteri, che hanno fatto una campagna un po' di accesso un po' sfrenato, dando dei comunicati stampa in cui si dichiaravano l'alternativa alla CIAE, l'alternativa alla CIAE quindi da un punto di vista che potrebbe cozzare con il disposto dell'articolo 180, e la CIAE si è un po' ritratta, ma non tanto gli uffici con i quali noi abbiamo intrattenuto queste riunioni e con le quali riusciamo comunque ad avere un dialogo, ma il problema arriva quando si deve comunque far avallare il progetto da coloro che sono a capo del consiglio di amministrazione della società, che hanno delle visioni un po' diverse rispetto a coloro che effettivamente poi lavorano sul campo. E pertanto diciamo che cosa ci ha fatto pensare tutta questa esperienza? Che in fondo, qualora il progetto non dovesse andare a buon fine, quindi non si riuscisse in qualche modo a trovare una soluzione adeguata per offrire agli autori che rilasciano le proprie opere sotto licenza CC, di valutare effettivamente l'applicabilità in concreto del divieto di intermediazione monopolistico in Italia, in quanto l'ente monopolista in questa situazione si sta in qualche modo disinteressando una parte di autori che decidono di gestire le proprie opere in modo diverso, e quindi non associandosi direttamente all'ente sotto una disciplina diciamo cosiddetta ordinaria. E quindi questo è tutto ancora dei jure condendo. Sono nei termini? Perfetto. Ok, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. La questione che è di showcase e tavola rotonda toccherà nuovamente il tema della gestione collettiva, probabilmente forse abbiamo forse tempo per una unica breve domanda ora. Fulvio R ci chiede cosa ne pensate del progetto BitPic? Potrebbe sostituire il ruolo delle società di gestione collettiva? Posso rispondere? Allora, BitPic non gestisce i diritti degli autori e compositori, ma BitPic è un'etichetta digitale che gestisce i diritti connessi, quindi i diritti degli artisti, che è cosa ben diversa rispetto alla gestione operata dalle società quali la si ha. quindi si è in qualche modo introdotto un mondo parallelo, ma che è sempre esistito, solo che gestendo online si confonde maggiormente l'ambito del diritto connesso con il diritto d'autore, questo sicuramente. però BitPic esce fuori dal discorso dell'intermediazione dei diritti d'autore, tant'è che io ho avuto modo di visionare i contratti di BitPic, perché ci lavoro quasi quotidianamente, e gestiscono i diritti degli artisti, i quali in qualche modo rinunciano alla raccolta dei diritti di pubblica esecuzione, ex articolo 73, in quanto non hanno la possibilità di raccoglierli attraverso una società di gestione, ma che gestisca in qualche modo i diritti connessi stessi. A questo punto chiamerei qui sul palco Simone Aliprandi di Copyleft Italia, la dottoressa De Carolis della Sapienza e i licaoni, in particolare Francesca Detti e Alessandro Izzo, e ringrazio naturalmente Deborah e Giuseppe che ritorneranno qua sul palco alla fine della sessione per rispondere ad eventuali ulteriori domande. Mentre si sistemano vi dico soltanto che il 17 dicembre, ormai è ufficiale, il 17 dicembre è a Roma, alla Camera dei Deputati, nell'ambito degli incontri di Capitale Digitale, ci sarà di nuovo a distanza di circa un anno il CEO di Creative Commons, Joe Ito, che sarà l'ospite principale, e mi aspetto potenzialmente che da questa visita, così come l'anno scorso l'incontro tra Joe Ito e il presidente Assuma della SIAEV, ha dato origine al gruppo di lavoro di cui ha parlato Deborah De Angelis, può darsi che questa nuova visita di Joe Ito in sede istituzionale, ci sarà anche il presidente della Camera, non possa sbloccare l'iter che si è arenato in questi ultimi mesi. Grazie Juan Carlos, speriamo bene che l'intervento di Joe Ito sia di nuovo miracoloso come la volta scorsa, e a questo punto vedo che Simone si sta preparando con la sua presentazione, lascio a lui in realtà di dirigere un po' i lavori della prima metà di questo showcase, dandogli anche il compito di riassumere in sei o sette minuti, diciamo, il polso della situazione del mondo copyleft in Italia, che lui conosce molto bene, girando per il paese partecipando a tantissime iniziative legate al copyleft e al creative commons. Sì, buonasera a tutti e grazie per avermi invitato e coinvolto in questo evento veramente interessante e unico. Sì, questo è il progetto, faccio vedere il sito e non ho preparato una presentazione appunto perché, a parte che il tempo non lo permetteva, io di solito non amo neanche usare molto le slide perché mi vincolano e non mi permettono il gusto dell'improvvisazione. Appunto, questo è uno showcase dove dobbiamo presentare un po' di esperienze, esperienze legate al mondo, da parte mia, al mondo della divulgazione, cioè portare questi concetti che abbiamo largamente approfondito nei primi interventi ad un pubblico invece completamente digiuno, ma non completamente digiuno di questi argomenti, spesso completamente digiuno anche delle basi su cui questi argomenti si fondano. ed è un lavoro che non è facile, cioè nel senso non è facile trovare il giusto equilibrio che permetta di non offendere l'intelligenza della persona con cui parlate, magari spiegandogli l'ABC quando questo magari l'ha già acquisito, e allo stesso tempo invece riuscire a fornire comunque delle informazioni utili e nuove per la platea. Ed è una cosa che appunto ho imparato un po' sulla mia pelle, essendo coinvolto in iniziative di vario tipo, ho fatto un periodo passando per le associazioni, i centri sociali, a volte lezioni universitarie, a volte cose diciamo più di intrattenimento come concerti, come ad esempio quello che ci sarà stasera, e in tutte queste occasioni emergono sempre quei nodi, quelle domande chiave, che sono un po' quelle che abbiamo visto prima nella presentazione di Selili, che sono le frequently asked questions che sono già pubblicate sul sito. Qual è il problema di fondo? È che la gente non le legge. Nel senso che questo è il sito, e la maggior parte della gente che mi scrive, mi scrive cose, mi pone quesiti, che trovano risposta probabilmente già in questa mezza pagina che trovate. E se non è qua, è probabilmente nel primo link, ovvero questa brochurina che io ho pubblicato sul sito, che stasera... dov'è il mouse? Ah, scusate. Vabbè, questa è una brochurina, proprio il classico pieghevole, magari chi stasera verrà le troverà disponibili, dove ci sono proprio i concetti essenziali del cosa si intende per copyleft, e qua si trovano le risposte a quelle domande base. Il problema è che c'è una voglia, a volte frenetica, di risposte facili, gratuite e immediate, al che la prima cosa che viene da fare è scrivere alla primo indirizzo email che si trova. È un problema che è sorto anche, almeno per chi di voi partecipa, anche nelle liste creative commons. Puntualmente arrivano domande che trovano risposte nella home page del sito creative commons. Però questo è un dato che dobbiamo raccogliere, cioè vuol dire che c'è sempre gente nuova, cioè è un segnale che c'è sempre gente nuova che si affaccia a questi argomenti, ed è questo il lato positivo di questo risvolto. Adesso breve introduzione su come sono arrivato io a occuparmi di queste cose, colpa del professor Hubertazzi, nel senso che io mi sono laureato in, vedo che sorrido, mi sono laureato in diritto industriale a Pavia e era il periodo in cui si iniziava a parlare dei modelli dell'open source portati non più nell'ambito statamente formato, ma anche al mondo dei contenuti creativi in generale, ed è arrivata questa tesi. Era il titolo open source e opere non software. E da lì mi si è aperto questo mondo che nel 2002-2003, quando io ho fatto la tesi, era nuovo, mi sono dovuto leggere un sacco di cose in inglese, tradurle. Una volta laureato mi sono trovato con questo materiale, traduzioni, link a siti che magari in Italia non erano conosciuti, e ho pensato quantomeno di metterlo in condivisione, di creare una piccola, era ancora più embrunale di questo, una piccola pagina web in cui condividere questa mia esperienza. E ho focalizzato l'attenzione su questo termine, copyleft, perché mi sembrava quello che maggiormente denotava un'efficacia semantica, ma copyleft come una forma ribaltata di copyright, che poi crea anche equivoci, nel senso che molta gente casca, ma è uno di quegli equivoci basilari, per cui si crede avere a che fare con una cosa che, una forma di rifiuto del diritto d'autore, una forma di no copyright, di non accettazione dei diritti d'autore, al che si deve spiegare appunto che tutto si basa ancora strettamente sul diritto d'autore, a meno che appunto si arrivi ad un copyright 2.0, allora lì si va veramente a incidere sui principi di fondo del diritto d'autore. Per ora questo copyleft, questo fenomeno che io appunto accambio genericamente copyleft, ma che è ben ampio, sì, non è altro che un modo più etico, più, secondo me, anche più consono a quelli che sono i tempi, di utilizzare il diritto d'autore. E questo è il compito del mio progetto, cioè spiegare questo aspetto, approfondire tutte le varie ripercussioni che questa innovazione può avere nel mondo della comunicazione e soprattutto con un'ottica privilegiata verso gli utenti che non hanno formazione, non hanno base, non hanno base di materia giuridica, di materia giuridico-economica. Le grosse attività, cioè, le trovate nel lato destro della pagina, è sempre sbagliato il mouse, in sostanza, le nostre attività, le mie attività, perché è un progetto quasi totalmente gestito da me, sono editoriali, ovvero sono i piccoli libretti che io ho pubblicato in questi anni, che sono rivolti a questi argomenti. Iniziative di formazione, cioè io puntualmente mi metto a disposizione di enti pubblici, università e associazioni che abbiano voglia di organizzare corsi o giornate formative su questo campo. e iniziative di consulenza, perché io sono anche avvocato, comunque svolgo anche attività di consulenza e faccio, quando c'è bisogno, anche attività specifica di consulenza verso soggetti che abbiano bisogno di informazioni specifiche su loro casi. Ecco, un'altra difficoltà che ho incontrato in questi anni è saper riuscire a mantenere un confine fra la mera informazione a scopo di approfondimento intellettuale e la consulenza. Spesso ci provano a scrivere un'email mascherata da curiosità intellettuale, ma che poi richiede una consulenza specifica. Cioè la mail inizia con ho letto sul libro, ho letto sul sito una cosa, volevo sapere lei come la pensava a proposito di, e poi dieci righe di richiesta di una consulenza vera e propria. In quel caso purtroppo anche ho un vincolo deontologico che non mi permette di fare consulenza così in modo veloce e leggero via email senza un accordo specifico con il cliente. Niente, questo era per appunto inquadrare un po' la mia attività di questi anni. Ecco, anche il filmato che avete già visto prima è una delle attività, è una cosa che ho fatto grazie al supporto del Comune di Modena che ha sponsorizzato gran parte delle mie pubblicazioni e ha voluto anche mettere a disposizione la struttura per farlo perché solamente il doppiaggio di un filmato necessita comunque un software di apparecchiature per poter fare questo tipo di attività di cui io non ero fornito e loro ci hanno ospitato presso un loro studio di registrazione con dei ragazzi della Pongo Films che è una piccola etichetta videografica e abbiamo realizzato questo filmato che tra l'altro è considerato ancora una versione beta perché ci sono ancora un paio di cose da sistemare mi sono già messo d'accordo con Federico poi farò avere il file ad altra risoluzione poi ci penseranno loro probabilmente a metterlo in distribuzione sulla rete quindi qualche giorno di pazienza quando usciranno le licenze avremo anche filmato speriamo allora dopo di me appunto nella mia mezza sessione avremo appunto altre esperienze ecco io ho parlato della mia esperienza generica nell'ambito della divulgazione dal punto di vista poi editoriale e formativo abbiamo anche un'esperienza legata al mondo delle biblioteche e degli archivi che è un altro ambito molto in cui questi temi sono sentiti in modo molto acceso e poi un'altra esperienza da parte di chi invece svolge attività di filmmaker, videomaker e sentiremo un po' dalla loro voce diretta come si sono rapportati in generale alle problematiche del diritto d'autore del copyright emersi oggi e con queste nuove proposte questi nuovi modelli di applicazione del diritto d'autore che sono le licenze QWERTY Commons e in generale le licenze Copy Left inizierei appunto seguendo l'ordine del programma dalla dottoressa Elena De Carolis che appunto si occupa, ci dirà lei di preciso comunque del sistema bibliotecario dell'Università di Roma C'è la presentazione? Ah ok, quindi da qui Ok, ci scambiamo Buonasera, sono Elena De Carolis e lavoro presso la biblioteca del Dipartimento di Economia Pubblica della Sapienza Questa sera siamo stati invitati ringrazio Nexa e Federico Morando in particolare per diciamo come prova vivente che se li li funziona nel senso che abbiamo potuto soffrire di questo servizio che è stato prima illustrato da Thomas Margoni di consulenza e di supporto appunto per l'adozione delle licenze Creative Commons nell'attesa appunto che si realizzi il copyright 2.0 questo servizio è molto importante perché consente appunto anche strutture che non hanno magari competenze come si diceva prima di tipo legale, tecnologico unite insieme in grado di renderle autonome rispetto a questa scelta consente appunto la possibilità di approdare a questa soluzione la nostra esperienza prende il via da un dato di fatto cioè la presenza in rete di working paper pubblicati nel sito del Dipartimento in versione e-only cioè esclusivamente elettronica a partire dal 2005 e da un interrogativo anzi da una serie di interrogativi a che titolo queste opere sono disponibili online? gli autori e i lettori cioè i fruitori di queste working paper sono consapevoli dei loro diritti l'autore di un working paper che rapporti intrattiene rispetto all'editore diciamo, colui il quale comunque affrò uno spazio per la pubblicazione di questi working paper che è il Dipartimento due parole su che cosa è un working paper probabilmente la maggior parte di voi fa ricerca e quindi lo sa velocemente un working paper è un, come dice la parola stessa è un work in progress un prodotto della ricerca teorica che vuole essere un agile veicolo di idee di modelli formali e informali uno strumento della comunità scientifica per favorire il confronto e la discussione il working paper spesso è anche però un preprint cioè una pubblicazione grigia ancora in una veste editoriale non definitiva è un testo preparatorio, una bozza che poi, dopo aver passato la peer review appunto diventa articolo scientifico pubblicato su riviste scientifiche specializzate il contesto i working paper del nostro Dipartimento escono su carta dal luglio 94 dal luglio 97 in formato diciamo duplice cioè sia su carta che in formato elettronico e diventano solo elettronici appunto dal giugno del 2005 con il passaggio dalla carta all'online emergono alcuni problemi in particolare la commissione pubblicazione del Dipartimento si pone il problema di come assolvere all'obbligo del deposito legale il deposito legale è importante perché l'adempiere a questo diciamo obbligo rende i titoli valutabili in occasione di procedure concorsuali appunto utili alla carriera accademica neanche la nuova legge sul deposito legale del 2004, la 106 del 2004 e il regolamento del 2006 chiariscono in maniera definitiva e chiara come effettuare il deposito legale di pubblicazione online vediamo poi qual è la soluzione adottata dal Dipartimento quindi da un lato il passaggio della carta all'online rende più importanti questi prodotti della ricerca perché sono estremamente più visibili e quindi in qualche modo anche più valutabili per la carriera accademica dall'altra però c'è una carenza di regolamentazione che crea difficoltà parallelamente l'altro contesto in cui si inserisce appunto la nostra esperienza è quella di REPEC Research Paper in Economics con un progetto degli anni 97-99 la comunità degli economisti dà vita a un archivio decentralizzato di e-prints, di pubblicazioni elettroniche non solo working paper ma anche libri e e-book veri e propri capitoli di libro eccetera e praticamente li mette a disposizione appunto attraverso questa risorsa disponibile a tutti ad accesso aperto quindi è in qualche modo la risposta della community degli economisti da un lato ai tempi lunghi di pubblicazione e dall'altro all'urgenza di avere subito disponibili i risultati della ricerca un po' sul modello dei primi che sono partiti insomma nell'ambito accademico-scientifico che sono i fisici con Archiv solo qualche dato per dare l'idea dell'ampiezza di questo grande repository tematico più di 800.000 documenti di cui 680.000 disponibili online ben 2.600 serie di working paper con 300.000 titoli di cui l'80% a testo pieno si capisce bene quindi quanta parte di Repec sia fatto poi anche di questo materiale particolare che sono i working paper e anche qualche dato sui download l'ultimo dato pubblicato sul blog di Repec che dice che a tutto ottobre 2009 sono stati fatti 30 milioni di download quindi è un archivio estremamente popolato fortemente popolato ma anche estremamente utilizzato questa è una cosa importante non è solo un posto in cui vengono messe delle cose ma è anche un posto da cui tante persone prendono appunto elementi e li riutilizzano come mai siamo arrivati ecco quindi per finire appunto Repec quindi genera una necessità impellente di esserci questa è una cosa molto importante e questo bisogno di esserci genera una maggior consapevolezza degli autori rispetto ai loro diritti e anche rispetto ai temi dell'accesso aperto cosa succede parallelamente il mondo dei bibliotecari la comunità dei bibliotecari si trova a masticare open access praticamente in moltissime occasioni soprattutto in occasioni di corsi e convegni ed è in un'occasione di questi corsi che viene proposta come soluzione agli interrogativi di cui all'inizio l'adozione della licenza creative commons ci tengo a dirlo il tutto è partito da un corso sull'open access organizzato dal CASPUR da Paola Gargiulo che ha dato l'impulso a cui ho partecipato e che ha dato l'impulso a tutto quanto l'altra cosa molto positiva è la sinergia in questo caso tra biblioteca e commissione pubblicazioni del dipartimento per cui i due mondi biblioteche e docenti in questo caso si sono trovati a lavorare a stretto contatto in particolare la persona che ha svolto questo lavoro com'è la professoressa Luisa Giuriato ed è stato molto positivo perché non sempre questo accade ed è l'elemento un po' di debolezza i due mondi sembrano quasi spesso non comunicare da un lato i bibliotecari fanno cose gregge poi però fanno un po' fatica sul fronte della comunicazione a relazionarsi insomma con quelli che poi sono i diretti interessati cioè gli autori insomma ok quindi perché la licenza creative commons perché chiaramente appunto è stato detto più volte anche ieri la licenza creative commons resta all'interno del diritto d'autore quindi comunque l'autore resta pieno titolare dei diritti e vede garantita l'attribuzione della paternità dell'opera al tempo stesso però vede garantita anche la sua più ampia diffusione è il passaggio da tutti i diritti riservati e da alcuni diritti riservati l'autore cede alcuni dei suoi diritti a fronte chiaramente di alcune garanzie sull'uso sull'utilizzazione della sua dell'opera e qui emerge subito un problema lo pongo in maniera problematica poi su questo insomma se avete delle idee mi piacerebbe insomma confrontarvi con voi il fatto che il working paper non sia un'opera definitiva ma sia a spunto come abbiamo detto prima spesso una bozza qualcosa che poi diventa altro cioè l'articolo scientifico dopo appunto il passaggio alla peer review l'adozione della licenza creative commons di fatto implica una scelta di campo forte perché come sappiamo l'adozione di una licenza è irrevocabile cioè si può rilassare l'opera anche con altre licenze però una volta rilassato il working paper con licenza creative commons quella licenza è irrevocabile questo naturalmente va a impattare sul discorso delle policy editoriali degli editori rispetto alla cosiddetta autoarchiviazione cioè sostanzialmente pubblicare appunto un working paper che è un preprint in una serie di questo tipo di fatto significa fare un'autoarchiviazione ex ante insomma per dirlo quindi ecco questo è un elemento e di qui il discorso anche chiaramente di Romeo Scerpa di cose di cui si è parlato abbondantemente nella giornata di ieri devo sbrigarmi sì allora niente velocissimamente quindi questa era la cosa non commerciale di questo abbiamo discusso con Federico in una telefonata insomma i working paper chiaramente perché inserire la clausola del non commerciale su working paper quando di fatto è un prodotto di scarso valore commerciale anzi più viene diffuso anche attraverso il circuito commerciale più aumenta in qualche modo il suo valore a livello di reputazione dell'autore e questo lo metto solo come elemento problematico anche con una piccola finestra sul discorso anche di recenti eventi come l'acquisizione di OISTER da parte di OCLC all'interno di servizi a pagamento sappiamo appunto che dentro OISTER c'è anche REPEC quindi problematiche anche in questo senso velocissimamente siamo diciamo tutto questo lavoro che abbiamo fatto con Selili e in particolare con l'avvocato Nicola Bottero e con Federico Morando a questo punto siamo arrivati in qualche modo a uno spartiacque adottiamo una licenza Creative Commons ma ci orientiamo su una share like cioè condividi allo stesso modo oppure adottiamo una no derivatives con la possibilità di opzione per gli autori di scegliere di volta in volta lo share like anche qui lo metto solo come elemento problematico magari poi ne parliamo velocissimamente questa non la leggo però sono gli elementi in qualche modo che costituiscono la promozione dell'open access nel mondo bibliotecario ieri c'è stata la giornata al Politecnico di Torino chi l'ha seguita quindi non ha bisogno di altro un'altra cosa CNR Solar che ha risolto il problema del deposito delle pubblicazioni elettroniche per quello che riguarda il CNR e con cui collaboriamo e sta lavorando anche il progetto NBN National Bibliographic Number che si occuperà sia di conservazione che di accountability il tema molto importante dell'identificazione univoca degli autori e per finire Creative Commons e Selili velocissimamente quindi intertestualità accesso aperto e cultura red right appunto secondo l'ultimo libro di Lessig lo studio quindi diciamo l'articolo come testo chiuso come palinsesto aperto alla creazione collaborativa di fatto non c'è niente di nuovo sotto il sole soltanto la rete amplifica di molto la portata della parola intertestualità il numero dei lettori potenziali e amplia dismisura le possibilità di fruizione e riscrittura del testo dico solo una piccola cosa legativa anche al discorso della scelta dello share like la possibilità di cui parla Jean-Claude Guedon nel suo ultimo libro della coautorialità cioè arrivare a far in alcuni casi alla proposta di modifiche anche sostanziali ad un lavoro per cui in qualche modo questo l'ultimissima cosa perché vedo Francesca Di Donato mi fa piacere riportare il punto di vista finale l'open access non è una battaglia dei bibliotecari è una battaglia degli autori questa è una cosa molto importante spesso ci sfugge invece un po' la mano perché ci piace questa cosa l'open access deve entrare nel lavoro quotidiano del ricercatore e questo è l'unica e il bibliotecario deve continuare a fare il suo lavoro che è quello di mediazione allora ricollegandomi ovviamente è vero è una battaglia degli autori però mi rendo conto anche adesso lavorando anche io in un ambito di dottorato che c'è una bassa consapevolezza da parte dei ricercatori degli autori sulle materie relative proprio in generale al diritto d'autore infatti il corso di ieri che ha avuto un'adesione elevata perché era un numero veramente elevato è un bel segnale vuol dire che si cominciano a porre il dubbio del fatto che se tu sei creatore soprattutto se sei creatore di scienza di opere scientifiche devi porti in un'ottica non passiva di accettare contratti che ti vengono posti come prendere o lasciare e questo è interessante poi due notazioni veloci il discorso del working paper come un'opera sempre in evoluzione direi che è una cosa abbastanza comune a tutta la creatività digitale di oggi nel senso che si parla di una beta continua di una creatività fluida è così effettivamente infatti il diritto d'autore fa fatica spesso ad applicare le sue categorie classiche legate all'opera che ha il marchio copyright con l'anno perché non è più così sono tutti i wiki i siti web i blog sono tutte opere tendenzialmente fluide e in continua evoluzione e infine ecco una notazione da legale è una cosa complessa da capire quindi non è non voglio troppo entrare nel tecnico però ecco non è detto che le licenze gratis siano irrevocabili a tutti gli effetti cioè è una cosa da tecnicamente l'autore può revocare questo consenso il discorso è che continuano a circolare le opere legittimamente rilasciate sì ecco no che volevo precisarlo non di evitare di far passare un concetto che poi magari visto che è un aspetto abbastanza delicato ecco passo la parola a a Ili Caoni da Livorno che ci raccontranno un po' la loro esperienza di realizzazione di contenuti video che è un altro problema perché appunto nel video abbiamo una serie di diritti che ad esempio nelle opere testuali non abbiamo perché c'è tutta la serie dei diritti connessi e quindi ci racconteranno un po' come hanno gestito no che sto facendo la manuenze ok ah quindi parla lei ah scusate prego presentateli allora io mi chiamo Francesca e non tocco un goccio di siare dal 2005 quindi sono sobra astemia da siare sono molto felice allora parte questa sapida battuta io faccio parte dell'associazione culturale di Ili Caoni siamo un'associazione di Livorno e promuoviamo la cultura cinematografica siamo attivi dal 1999 e adesso siamo una piccola realtà di autoproduzione indipendente realizziamo cortometraggi lungometraggi spettacoli teatrali nel 2005 noi ci siamo imbattuti per la prima volta nelle licenze creati in Commons perché nel 2005 noi abbiamo realizzato Chismino Rena il nostro terzo lungometraggio ma possiamo dire il primo lavoro realizzato con una confezione tecnica accettabile che lo rendeva un prodotto commerciale vendibile sul mercato e quindi abbiamo cercato di promuovere questo nostro prodotto ci siamo scontrati con le difficoltà che dei giovani autori di alte pretese indipendenti trovano in Italia ossia i vincoli della distribuzione ora non vorrei aprire una parentesi drammatica angosciosa sullo stato dell'industria cinematografica italiana però noi speravamo probabilmente in maniera anche un po' ingenua di trovare degli sbocchi anche diciamo piccoli per la distribuzione di questo film non li abbiamo trovati il rischio era quello di inserire questo film nel cassetto buttarvi la chiave e non avere nemmeno la soddisfazione di farlo vedere ad un pubblico non pagante la risposta è stata internet quindi distribuire Chismino Rena online gratuitamente per farlo vedere il più possibile e in qualche modo quantomeno ottenere una promozione ed è in questo momento che abbiamo conosciuto le licenze Creative Commons abbiamo adottato una licenza Italia 2.5 per consentire la massima diffusione del film riservandoci alcuni diritti prima fra tutti ovviamente lo sfruttamento commerciale di Chismino Rena il risultato è stato più che soddisfacente Alessandro vuol dire quale è stato il risultato buonasera io sono Alessandro e Izzo sempre dei bicaoni io sono l'anima quella più come si dice prosaica cioè quello che badarzodo ho sbagliato termine non lo so io ho fatto liti scusate e appunto e come cosa ha portato questo in termini pratici appunto in genere la nostra testimonianza è anche un po' questa cioè dire sì ok c'è tutto questo lato molto bello anche con dei film molto alti e nobili nel nostro caso la libera circolazione di idiozia come potete capire cioè non è che abbiamo fatto un film questo non l'ha specificato non è un film serissimo il nostro e anzi proprio per questo forse anche ha trovato un po' di difficoltà di distribuzione proprio che propone comunque eh cosa ridete è una cosa drammatica ci prendono in giro cioè fate bene e spero che ridiate con noi e non di noi e appunto il questo tipo di di umorismo un po' strampalato che abbiamo proposto in questo film non ha avuto un facile percorso una facile presa sulle persone quantomeno che dovevano valutarne la commerciabilità e quindi appunto i risultati quali sono stati innanzitutto il primo e questo magari è un po' più mio personale è stato il fatto che finalmente ho capito vagamente cos'è il diritto d'autore cosa non non da sottovalutare come dicevamo prima con Simone effettivamente ci sono la stragrande maggior parte degli autori non sa assolutamente di possedere questi diritti non sa nemmeno come gestirli e si scrivono alla CI semplicemente perché fa figo una piccola parentesi attenzione voi di creati in comments perché comunque mi sembra che stia avvenendo più o meno la stessa cosa con le licenze la gente le mette sui blog sui siti perché sembra quasi un elemento del template ma ce lo metto è carino link alla home page no scusa questa è una cosa che non un vaso di Pandora che non voglio scoperchiare e quindi appunto questo torna conto l'altro torna conto è quello un po' più pratico è stata appunto la grande visibilità a cui siamo stati sottoposti grazie a questo film è comunque stato apprezzato anche un po' diviso è stato il primo film in cui ha partecipato un'attrice che poi ha vinto due David di Donatello non per questo film ovviamente Alba Rohrwacher quindi insomma ha avuto anche un po' questo merito qui e ci ha consentito poi di riflesso di poter lavorare comunque siamo stati chiamati anche in virtù di quanto mostrato in questo film quindi di fatto noi attualmente lavoriamo in questo settore a dimostrazione che l'idiozia paga ulteriore dimostrazione che l'idiozia in Italia paga e l'ultimo torna conto che c'è è una cosa sulla quale io butto lì uno spunto perché mi sembra un po' sottovalutata è la sanità mentale dell'autore che utilizza creative commons che detta così sembra una battuta ma è vero in Italia secondo me ora faccio un'analisi psicologica un pochino di grana bassa però ripeto ho fatto liti e appunto c'è un po' quella che io chiamo la sindrome del gioco dei pacchi o della botta di culo scusate il termine gioco dei pacchi è un termine un po' forte mi rendo conto cioè nel senso la botta che ti dà la svolta che ti fa da non essere nessuno ecco nel nostro caso è il caso del cinema quello che ci interessa di più non esistere praticamente a entrare nell'olimpo dei grandi che anche se fanno dei clamorosi flop o insuccessi al botteghino tanto ormai stanno lì chi ce li smuove e c'è un po' questa cosa diffusa fra gli artisti gli autori di dire ho l'idea che questa è l'idea che mi consentirà questo salto la famosa botta di no questo se non mi porta a un vivere in maniera quasi paranoica poi questo rapporto con la creatività c'è un'idea c'è una me la tengo stretta non la faccio vedere nessuno se me la rubano me la portano alla tomba piuttosto la circolazione la circolazione libera delle idee oltre a essere una bella cosa per la società è una cosa sana anche secondo me per l'individuo perché appunto innanzitutto distribuendo gratuitamente con anche una certa frequenza secondo me porta cioè viene portato a essere più rilassato cioè di idee non ne ho una sola ne ho più d'una la creatività è un muscolo che si allena comunque quindi al limite poi me ne rubano una di queste idee c'erano altre non è che muoio povero c'è l'unica idea stretta fra le mani sai tipo Franck Ester Junior quando tolgono lo scheletro e e quindi appunto c'è una maggior rilassatezza c'è anche una maggior crescita secondo me appunto il problema di questo mondo un po' sommerso del cinema indipendente che non ha una grossa visibilità è appunto quella di non avere una visibilità di non confrontarsi poi col pubblico di non avere quindi anche degli stimoli di crescita cioè se da una parte non c'hai un produttore che ti sta col fiato sul collo dicendoti ah questa è una cazzata non la devi fare commercialmente un suicidio e sei completamente libero dall'altra non hai confronto col pubblico che in qualche maniera comunque ti dà delle indicazioni se stai facendo bene o male e rimani a un livello basso di amatorialità cosa che purtroppo c'è comunque nel nostro campo c'è grossissima amatorialità da questo punto di vista soprattutto se confrontato con altre nazioni tipo la Spagna che c'è un movimento cinematografico indipendente pazzesco sono a rischio no perché la campanella mi inquieta quindi no concludo dicendo appunto questo è un aspetto che ha secondo me un influsso molto positivo sullo stato d'animo del creativo il quale probabilmente è portato a vivere anche in una maniera più rilassata e costruttiva questo rapporto con la creatività questo grazie a l'utilizzo nella licenza creative commons quindi compratela una sorta di cordiale un cordiale un ccc secondo me se lo commercializzate se poi nelle prossime versioni di licenze metterete anche dei poteri come dire afrosidiaci io sarò ancora più contento grazie siamo stati sufficientemente comici scientifico grazie direi perfetto magari eh no è gratis tra l'altro ci sono dei dial che poi si inseriscono e vi rubano però questa è una cosa che non la pubblicizziamo però c'è ok e purtroppo dati i tempi abbiamo sforato un pochettino dobbiamo penso passare direttamente alla alla piccola tavola rotonda finale moderata da 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 Lorenzo e Benussi in cui abbiamo due speaker DJ Pony e DJ Enyac che parleranno di nuovo di temi legati alla creatività nell'ambito della musica naturalmente sforeremo di qualche minuto nel tempo dedicato alla discussione però avreste interrotto i licaoni io non me la sentivo proprio quindi grazie grazie a tutti gli speaker a Simone e alla dottoressa Decaveri buonasera a tutti cercherò di parlare molto velocemente visto che il tempo a mia disposizione è molto poco perciò sarà 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 una tavola tonda molto interessante però anche dovete stare abbastanza inizio quanti di voi sono autori? Avvocati? Meno bene incredibile benissimo vabbè faccio una brevissima brevissima introduzione poi lascio la parola agli ospiti che ci racconteranno due storie credo molto interessanti ma io volevo soltanto dire due cose che dico molto spesso quando parlo di contenuti digitali e delle modifiche che le reti digitali e il digitale in generale hanno portato al mondo della creatività in particolare al mondo della musica innanzitutto volevo citare Marshall McLuhan un grande studioso dei media forse uno delle intelligenze più importanti del secolo scorso che ci ricorda che il medium è il messaggio cioè ogni volta che io utilizzo un mezzo di comunicazione in un certo senso il messaggio che è questo mezzo veicola modifica il messaggio e di conseguenza quando parliamo di internet non possiamo pensare che valgano le regole anche a livello creativo che valgono per altri media e la seconda cosa è un altro citare volevo citare appunto un altro un economista Brian Arthur che ci spiega che su internet i rendimenti marginali sono crescenti a differenza del mondo fisico questo gli economisti non lo sopportano molto bene perché mette in crisi il concetto di razionalità mette in crisi una serie di pilastri su cui la scienza economica si regge e che cosa vuol dire vuol dire che mettere un nuovo contenuto in un catalogo online crea un vantaggio economico che è normalmente maggiore del costo dell'aggiunta di questo contenuto non so quanti di voi conoscono tutte le elaborazioni intorno alla long tail cioè il fatto che l'aggiunta di un contenuto probabilmente mi ampia un mercato un mercato di nicchia dove appunto posso andare a raccogliere un pubblico che normalmente non avrei e questo secondo me nel mondo della musica è molto importante e prima di passare alla parola ai due ospiti volevo dire che forse la musica è l'ambito in cui alcune contraddizioni che il digitale porta rispetto all'industria di produzione di quei determinati contenuti sono più forti e io vedo ormai purtroppo ne ho una specie di certezza una parte di questo mondo che ha un atteggiamento conservatore una parte appunto molto conservatrice e una parte progressista comincio ad avere dei seri dubbi che sia possibile una mediazione tra queste due parti probabilmente una delle due essendo anche un economista dell'innovazione come citavo oggi Calderini Schumpeter dice che a un certo punto vi è un meccanismo di selezione naturale per cui una delle due parti deve soccombere e credo che un certo tipo di atteggiamento conservatore sarà destinato clamorosamente a soccombere su questo volevo lasciare la parola ai nostri due DJ perché ci raccontassero innanzitutto qual è il loro rapporto con la musica digitale e lascerei prima la parola a DJ Enyaq per un po' cinque minuti poi riprendiamo dopo in arte musicale ripeto sono Fabio Battistetti in arte musicale sono conosciuto come Enyaq agisco in musica ma non soltanto da una decina d'anni e ho iniziato nell'era in cui i computer venivano diffusi attorno alla fine degli anni 90 quando c'è stata la grossa diffusione di computer e devo dire la verità che con quegli strumenti io ho iniziato a fare la musica e ho iniziato con il cut up cioè a tagliare brani passati cioè a rielaborare la musica del passato quello che ultimamente il buon Lawrence Lessig ci ha messo nel suo libro cioè il remix è un concetto che io personalmente ho utilizzato dieci anni fa utilizzo tuttora e che vedo nella cultura odierna realmente per cui le parole espresse da Lessig sono realmente vere e secondo me riguardano tantissimo la musica e forse maggior ragione il DJ se ci pensiamo un attimo tutto questo tipo di cultura remix alla fine remix la parola remix nacque proprio dai DJ nella prima scena hip hop dove andavano a campionare Brani Altui per creare nuova musica la mia esperienza concreta poi si applica nell'esperienza di CZ Netlabel un'etichetta discografica online distribuiamo musica gratuitamente in formato digitale cioè mp3 ad alta qualità questo da tre anni peraltro questa settimana noi festeggiamo i tre anni e questa sera sarà una delle occasioni il nostro compito è abbastanza come dire visionario dato che CZ era la droga diffusa sul pianeta Marte in un romanzo dei K-Dick noi abbiamo questa visione che la musica di domani deve essere in qualche modo più avanzata rispetto a quello che è realmente musicalmente ma anche a livello di distribuzione e fruizione il pubblico di oggi ha cambiato il modo di fruire la musica tutti abbiamo in tasca un lettore mp3 per cui ragazzi i dischi non servono più a nulla bisogna pensare a un nuovo rapporto con chi ci viene a sentire dal vivo oppure chi va a comprare i dischi tra virgolette e va a comprare nell'online store di iTunes o da qualche altra parte o li scarica è una realtà questa l'ottica di Chuzed è sempre stata quella di includere coinvolgere condividere questo processo dovrebbe essere dovrebbe essere qualcosa di naturale per noi sarà perché la nostra esperienza deriva dal do it yourself cioè da l'autoproduzione e poi anche in parte dell'open source noi due nella vita io e il mio socio nella vita reale siamo due che lavorano nell'informatica nello sviluppo di software eccetera eccetera per cui questi concetti ce li abbiamo innati dentro di noi e li abbiamo buttati dentro la musica questo coinvolgere gli artisti credo che sia un fattore molto importante rispetto rispetto anche a quale può essere il rapporto della produzione da parte del pubblico il pubblico apprezza quello che tu hai fatto perché l'hai fatto realmente con impegno e passione purtroppo io vedo nella musica mainstream pochissima passione è tutto ormai un meccanismo peraltro io mi occupo di seguire la musica da critico da anni in radio e anche per riviste e vedo sempre di più nella musica offline la musica mainstream quella che va in tv una mancanza di passione la rete con tutti gli strumenti che sono che ha messo a disposizione e Creative Commons è uno di questi signori ha cambiato le cose questo cambiare le cose non è ancora nella mente di tutti soprattutto i musicisti io sto notando che paradossalmente il musicista è il conservatore non è l'ascoltatore l'ascoltatore è molto più avanti perché l'ascoltatore già sette anni fa scaricava musica sul peer to peer mentre il musicista tuttora vuole pubblicare il disco ma signori il disco in questo momento il vinile il cd ha poco senso i dati di vendita sono reali mediamente all'anno le perdite sono sull'ordine del 20% dov'è che tutto rientra in un nuovo rapporto col pubblico in creare nuove nuove situazioni e soprattutto evidenziare la migliore realtà per un musicista il concerto cioè l'esibizione dal vivo e lì hai il rapporto diretto col tuo pubblico sei faccia a faccia come io con voi per cui c'è un modo di parlare di interagire anche quello è un modo di andare a creare un remix perché io noto in alcuni artisti un nuovo rapporto con il pubblico dal vivo in modo da andare a cercare di fondamentalmente crearsi un'affezione verso il pubblico perché i dischi non si vendono più quindi da qualche parte i soldi devono rientrare per un musicista la cosa migliore è mettere l'artista in comunicazione diretta col suo pubblico creare un'affezione è una community ciò che capita tutti i giorni su internet in questo momento da qualche anno l'economia di condivisione io ritengo che bisogna puntare i musicisti a far cambiare mentalità e rendersi conto che ci sono molte più possibilità rispetto al passato è una manna quella che abbiamo davanti in questi anni per la musica non è come la RIA o come l'SCF ci dicono tutti i giorni che invece è il periodo più tragico della musica no assolutamente no ok io passerei la parola a Pony e se ci racconti un po' le tue esperienze in particolare autore produttore manager che cosa vogliono dire oggi un sacco di lavoro fondamentalmente dunque io insieme a altri due ragazzi nel 98 ho dato vita a un progetto che si chiama Feel Good Productions abbiamo per anni prodotto dischi fondamentalmente legati al circuito major questa cosa diciamo che ci ha un po' portati a ritrovarci in quello che si dice Kill the Sack perché da lì non ne vieni più fuori cioè o entri nell'ottica di confezionare un prodotto cioè quello che lui diceva prima della musica che va in televisione non stiamo parlando di music market stiamo parlando di music business prodotti confezionati per essere venduti tramite la rete che poco hanno a che fare assolutamente con il discorso musicale di ricerca di approfondimento o quello che più meglio si si definisce aspetto artistico del proprio lavoro noi da questa situazione qua ne siamo venuti fuori nel 2004 con così un percorso abbastanza travagliato perché l'avvocato mi può confermare che i contratti discografici sono sempre un po' capestro quindi ci sono diverse cose che devono essere messe in chiaro quindi detto questo parte la nostra esperienza che comunque già prima di essere firmati da una labor basava la propria idea la propria filosofia su quello che è la diffusione la ricerca l'approfondimento musicale quindi ci ha portati a suonare in giro per il mondo a confrontarci con realtà diverse a confrontare anche quali sono i punti di vista diversi del mercato musicale perché quello italiano diciamo che non gode di ottima salute ma proprio perché si tende a essere un po' conservatori la SIAE non aiuta i DINR delle etichette discografiche neanche troppo perché la scelta ricade sempre sulla soluzione più facile c'è poca voglia di rischiare anche perché ci sono pochi margini di guadagno quindi è comprensibile per un'industria però questo ha fatto sì che noi venuti fuori da questa esperienza major nel 2004 se non altro io sono un attimo creato uno schema ho incasellato quali potevano essere le mie attività e le mie esigenze e questo mi ha portato prima cosa ad emigrare nel senso che io dal 2004 ho aperto una casa piccolissima microscopica casa di produzione in Inghilterra distribuisco attraverso canali digitali da 4 anni non produco più CD ormai da più di 2 quasi 3 ma bensì produco vinile correggo quello che ha detto lui perché il vinile torna ad essere un oggetto molto interessante per collezionisti e per comunque anche solo cultori del buon ascolto perché ha una diciamo che gode di dinamiche diverse quindi c'è una maggiore qualità se anche si vuole tant'è che nel 2008 approssimativamente c'è stato un incremento del 70-80% di vendita di vinile in linea di massima quindi siamo ritornati a dividere i due segmenti tra vinile limited edition particolari confezioni o comunque tutto quello che è dedicato al mondo dei cultori alla distribuzione digitale distribuzione digitale che ormai si funziona tramite il download poi ci sono anche realtà come track it down queste cose qua dove puoi utilizzare una serie limitata di download gratuiti hai la possibilità di ascoltare fulltracks in streaming quindi volendo ti puoi approfondire tutti i tuoi preferenze eccetera ma vengono anche ora fuori servizi tipo spotify spotify è una cosa che in italia purtroppo si deve ancora pagare in inghilterra da un annetto a questa parte è online è gratuito basta registrarsi avete un catalogo a disposizione di circa 3000 brani 3 milioni di brani scusate e questa cosa tramite un sharing delle revenue fatte sul advertising piuttosto che ci sono delle premium subscription che sono 5-7 pound che ti puoi ascoltare tutto questo dov'è che sta iniziando a cambiare il meccanismo i smartphone cioè noi non avremo più bisogno di usare il nostro pc come interlocutore per tutto questo mondo ma avremo la possibilità di avere con un paio di cuffiette il nostro iphone o quello che preferite direttamente a disposizione EV cioè dove volete quando volete anche addirittura godono di tecnologie che si creano un'immagine anche se il telefonino non prende voi potete ascoltare quello che volete quindi queste cose qua andranno a come dire a crescere quello che prima è diventato il software as a service adesso è music service cioè ci sono anche realtà come music state in Inghilterra dove chiunque abbia voglia o l'esigenza di andare a cercare un brano sono pre-cleared queste cose quindi vengono licenziate in anticipo e queste cose dietro ovviamente un deal che verrà fatto con questo con l'intermediario una casa di produzione può scegliere all'interno di un catalogo infinito di brani sempre se questi sono bravi a collezionare un numero infinito di brani però danno la possibilità di un po' come Flickert per le foto questo è per la musica quindi numero infinito di musica che voi potete utilizzare ovviamente dovrete scambiare un qualcosa in più di una semplice mail ci sarà un contratto ma fondamentalmente sono cose molto semplici che vanno però a coprire fondamentalmente i diritti connessi quello che diceva prima perché alcuni di questi possono non essere iscritti PRS o SIAE ma semplicemente c'è la trattativa della proprietà e lo sfruttamento del master e dell'opera passo poi continuo sì esatto scusa se ti devo incalzare ma ripassiamo la parola a ENIAC volevo chiederti ok abbiamo visto insomma che ci sono delle cose da fare ci sono delle delle organizzazioni delle istituzioni che non sono più utili ma facciamo l'avvocato del diavolo io invece dico no tutta questa cosa di internet non mi piace non mi interessa quali sono le alternative cioè non uso immaginiamo di chiudere internet oggi come oggi in Italia voglio fare il musicista qual è l'alternativa c'è un'alternativa l'alternativa è quella storica della gavetta però non possiamo tralasciare il fatto che quello che ci ha insegnato internet in questi anni dobbiamo portare quello che internet ci ha fatto vedere in questi anni portano la vita di tutti i giorni perché il futuro può essere l'unico futuro per l'Italia dato che in Italia abbiamo un problema culturale per cui abbiamo 4 milioni di persone che comprano libri e 4 milioni di persone che vanno al cinema non solo il dato musicale ma ciò vuol dire che un decimo della popolazione italiana si interessa a un interattimento culturale i margini sono molto piccoli dobbiamo lavorare in modo che tutta questa etica di condivisione di collaborazione di nuovi strumenti che hanno permesso l'accesso a tutti nella creazione di contenuti che è capitata su internet che possa essere utilizzata offline questa mentalità bisogna portarla fuori dalla rete il musicista secondo me deve reinventarsi non può continuare a pensare che faccio la sala prove faccio concerti a 50 euro in giro per l'Italia oppure faccio X Factor questa non è cultura ragazzi non è neanche siamo nel 2009 per cui è come torna all'epoca di Sanremo di 50 anni fa forse non c'è alternativa insomma le alternative bisogna anche un po' crearsele cioè perché se no siamo sempre lì rimaniamo in braghe di tela con la solita come dire atteggiamento assistenzialista che e beh però non abbiamo gli spazi per non ci sono cioè ho sentito prima qualcuno che citava i centri sociali cioè i centri sociali sono sempre etichettati come insomma sempre demonizzati però se in Italia non ci fossero stati i centri sociali noi andavamo ancora a vedere niente in contrario però i concerti di Albano cioè probabilmente non saremo neanche qui capito probabilmente non saremo neanche qui ma questo non vuol dire grazie ai centri sociali anche grazie ai centri sociali che hanno grazie alla volontà di qualcuno messo a disposizione un piccolo microscopico spazio per fare dell'attività che normalmente si chiamerebbe underground cioè ricerca sperimentazione possibilità di ascoltare perché i centri sociali sono anche nati perché non si pagava andare a vedere i concerti e quindi uno andava al centro sociale a vedere il concerto perché non costava 25 euro o 20 mila lire quando sono nati e quindi c'era qualcuno che tornato a casa folgorato da questa esperienza si interessava anche a un genere magari musicale diverso e quindi questo le radio cioè la le radio libere cioè le web radio quelle più come dire forse conosciute anche per la storia che hanno sono quelle nate nei college americani però voglio dire le web radio è uno strumento fantastico cioè è una cosa geniale perché intanto permette a qualunque individuo voglia fare musica di mettersi se non altro in discussione cioè tutto questo è anche un qualcosa che porta ad alzare la qualità perché se no cioè quelli che dicono che internet abbassa la qualità non è vero la alza esattamente l'opposto perché la competizione aumenta la qualità e anche la stessa cioè se voi vi trovate ad un certo punto di fronte a un brano prodotto in un certo modo e una ciofeca è evidente che questa cosa la riconoscete ma se non c'è la possibilità di ascoltare queste due cose di confrontarle ci sarà sempre punto a capo cioè poi soprattutto perché la musica apro una piccolissima parentesi cioè il music la musica del mercato italiano non è necessariamente morta è che si distingue tra due cose record business cioè tutto quello che è l'atteggiamento più l'aspetto più conservatore quindi gli editori le case discografiche tutto questo è recording ok il music business è un'altra cosa cioè quindi la distinzione deve essere ben chiara cioè quello che è recording cost ed è morto ed è quello che prima Lorenzo diceva che probabilmente non è che dovrà soccombere si dovrà adattare e questo avverrà in maniera naturale perché o cambiano lavoro o se no si adattano perché l'altro è prevalente in questo momento cioè il music business il brand non è più l'etichetta discografia il brand è l'artista il brand è l'artista chiunque voglia promuovere musica deve promuovere l'artista o promuovere se stesso nel caso fosse un artista perché il brand più contact with fun uguale reason to buy siete parte di un sistema cioè voi siete fedeli a questa cosa e quindi ad esempio per garantire per dare supporto a tutte queste cose qua ad esempio in Italia mancano cose come l'IAM inglese che sono Association Independent Music per cui tu hai bisogno di una consulenza di una cosa di un network vuoi mandare i tuoi brani metti in piedi il tuo business vai provi il tuo business plan chiedi di quello cui hai bisogno fai delle tavole rotonde ci sono dei marketing manager che ti possono fare una strategia te la studiano cioè sono servizi importanti ma anche per la finalizzazione di un prodotto che poi voglia essere commerciale oppure no questo lo potete decidere voi però di fatto c'è in Italia no anche solo questo è un ostacolo infinito grande un'ultima battuta conclusiva e poi purtroppo dobbiamo chiudere per cui se volete dire un'ultima cosa lanciare un messaggio ma io ritengo che bisogna essere positivi rispetto al futuro mi viene da pensare a questa frase che era una compilation del primo punk californiano che io ritengo che quella musica fu visionaria the future looks so brighter e il futuro io lo vedo lo vedo molto bene però dobbiamo prendere quello che abbiamo assistito e anche in parte almeno per quanto mi riguarda agito con internet portarlo nel mondo offline e rivoluzionare veramente le cose far cambiare la mentalità agli artisti e diffondere meglio anche il messaggio del creative commons perché io come net label che usa licenza creative commons mi trovo un po' nella posizione di Aliprandi o di Selilli mi chiedono domande banalissime sul creative commons ma ragazzi andate sul sito cioè riassumo in breve due parole cioè il recording industry è morto la musica e music business non sono mai state così in salute cioè grazie grazie mille a tutti direi che la discussione la dobbiamo comprimere estremamente anche perché Marco Ricolfi fa una domanda che però gli mangerebbe tempo per l'intervento finale quindi lascio a lui di scegliere la no certo io comunque ero qui in attesa di eventuali biglietti e domande non ne ho ricevuti anche per questo suggerivo di diciamo chiudere brevissimamente se ce ne sono avete un'ultima chance la domanda che Marco Ricolfi poneva a Giuseppe Mazzotti era secondo te la CIA nell'epoca digitale è un dinosauro morente o ha un futuro mi pare che abbiamo già parlato di cose legate non so se Giuseppe vuole buttare lì una risposta in 30 secondi secondo te la CIA ha un futuro nell'epoca digitale o è un dinosauro morente attenzione alla risposta puoi scegliere tra A e B come cambiare a ruolo funziona dovrebbe dovrebbe cambiare ruolo così com'è per certe cose non 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 va più e già sta perdendo pezzi del suo dei repertori che amministrava prima per l'online quindi per forza di cose dovrà cambiare ruolo resterà utile per tutti io resterà utile per tutti per tutti tutte quelle funzioni che il digitale poi non non copre nel senso che abbiamo sempre bisogno poi di una società che amministri i diritti di public performance a Trapani Ragusa Catanzaro in tutte le in tutte quelle realtà periferiche in cui ancora il diritto d'autore funziona benissimo e se voi andate a vedere quelli che sono i risultati economici delle società di gestione collettiva vedrete che vedrete che gli usi digitali non coprono nel migliore dei casi che è quello della società inglese più del 10% del turnover annuale quindi tutti questi sforzi di proteggere la musica del digitale di inferocirsi contro i pirati non hanno portato a niente perché ancora il grosso la grossa fetta di diritti d'autore è generata da usi nel mondo reale non nel mondo digitale anzi nel mondo digitale ci tengo a precisarlo i grossi soldi per la società e gli autori e potete chiedermi conferma alle società vengono da usi banali che sono quelli sulle suonerie dei cellulari ed è una cosa anche per i musicisti è anche una cosa più stabile sincronizzazioni cioè sì 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 sincronizzazioni è avvilente per i musicisti pensare che il grosso delle proprie entrate digitali venga dalle suonerie una roba della SIAE sarà un dinosauro morente anche solo perché il bollino SIAE deve morire cioè ma ragazzi ma siamo nel 2000 e ma basta questo bollino SIAE cioè devo partire io con la macchina andare in un ufficio della SIAE insomma però bisognerebbe portare queste stanze in sede politica il problema è che i nostri politici si interessano d'altro e abbiamo questi balzelli queste cose burocratiche incredibili che non fanno altro che scoraggiare tutti coloro che intendono a innovare a creare io faccio il cd lo regalo piuttosto guarda di andare a fare anche su quello sì sì fa lo stesso che me lo vengono a reclamare va bene va bene grazie Eniac dice il futuro lo vedo molto bene e in effetti il futuro lo vedo molto bene per una serie di motivi parliamo ad esempio della SIAE la SIAE effettivamente ha degli aspetti da dinosauro però se pensiamo alle cose che ci ha raccontato Deborah non siamo ancora arrivati a questo punto però SIAE si è posto il problema o gli abbiamo fatto porre il problema che ci sono delle persone che usano Creative Commons e che quindi non vogliono essere iscritti SIAE soci ma che siccome questi sono tanti e sono importanti perché il music business sta benissimo come ha detto DJ Pony bisogna pure pensare a rappresentarli con un mandato e quindi si sta lavorando su quello e le cose si muovono naturalmente c'è tanto da fare e qui fino all'anno prossimo io devo parlare delle conclusioni che finirò rigorosamente prima delle sei e di qui all'anno prossimo c'è tantissimo da fare però io il futuro lo vedo molto bene perché in effetti di cose da fare ce ne sono tante voi fate caso non si parla qui di privacy però il privacy è veramente adesso stiamo andando sulle nuvole con il cloud computing diamo tutti i nostri dati io ho incominciato io ho 57 anni ma questi pazzi hanno incominciato a farmi lavorare sulla rete sulle cose tipo google per condividere con gli altri e io lo faccio volentieri lo imparo ma poi mi domando tutte queste cose se io dico delle parolacce se dico cose terribili chi è che protegge delle cose che non sono sul mio server residente ma sono sulle nuvole quindi bisogna un po' vedere questi problemi di privacy che sono veramente nuovi rispetto la rete pone dei problemi completamente diversi e siccome tutto cambia in pochissimo bisogna che ci poniamo delle questioni nuove io il futuro lo vedo anche molto bene perché continua a cambiare anche oggi ho imparato un sacco di cose che non sapevo che mi hanno detto poi le persone che vivono in mondi di cui non ho la più pallida idea però noi stiamo continuando a porci questi problemi naturalmente la cosa importante è che ce ne sono tanti di centri che si occupano di queste cose cioè ci siamo noi qui a Torino abbiamo la fortuna di avere delle collaborazioni importanti con Milano piuttosto che con Roma piuttosto che con altre realtà ma esistono degli altri centri che si occupano di questa agenda in Italia e all'estero e quindi questi nuovi temi che dobbiamo esaminare li potremo esaminare anche insieme con altri e quindi possiamo anche cominciare a pensare a temi come i rapporti con i consumatori cioè pensiamo Facebook che problemi pone di contratti conclusi con minori di clausole che sono veramente molto problematiche delle istanze di protezione rispetto a questi nuovi intermediari che stanno vedendo c'è un'agenda grossa che vuol dire continuare i progetti che abbiamo incominciato ma finirne alcuno e finirne qualche d'uno e aprire dei nuovi fronti non da soli ma insieme con altri mi dice il mio condirettore il professor De Martin di ringraziare beh certo qui bisogna ringraziare tanti bisogna ringraziare il pubblico paziente folto non da sabato pomeriggio ma effettivamente se parliamo di una community qui c'è una community reale alle spalle che se no non sarebbe fino a così tardi poi i nostri relatori tutti quanti lo staff del centro Nexa che ha fatto veramente un lavoro straordinario incluso la minestra di Porcini naturalmente che è una cosa che non è frequente la regione Piemonte e volevo dire che stasera c'è un party innanzitutto per i tre anni di Qzei ma anche perché c'è il Creative Commons è giusto che sono tre anni quindi festeggiamo anche loro ma perché esiste il Creative Commons party presso il Caffè Liber in Corso Vercelli 2 angolo lungo Dora Napoli alle ore 20 e quindi abbiamo anche un aspetto di evento insomma questa è la ragione per la quale il futuro lo vedo molto bene ma lo rivedremo poi l'anno prossimo grazie 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 grazie